Elezione Alvia in Sardegna per il rinnovo del Parlamento europeo e per eleggere il sindaco in 27 comuni dell'isola. Urne aperte dalle ore 15 di oggi, sabato 8 giugno, con la chiusura dei seggi fissata per le ore 23. Si voterà anche domani, domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori devono recarsi a votare in possesso di un documento di identità valido e tessere elettorale. Per le elezioni europee, le fasi di scrutinio partiranno domenica alle ore 11. Lo spoglio nei 27 comuni dell'isola, chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale, invece, inizierà lunedì 10 giugno alle ore 14. Nei comuni di Cagliari, Monserrato, Sinnai, Sassari e Alghero, chiamati a eleggere il nuovo sindaco, vince il candidato che ottiene il 50% più 1 di voti. In caso contrario, i due candidati più votati passano al turno di ballottaggio previsto nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno.